Dovrai comprare 700 gambe Quanti? 700 Mi sono rimasti solo questi, di piccolo taglio Basta che siano 700, né uno di più né uno di meno Eh ma io devo contarci, vorrà almeno un quarto d'ora Faccia con comodo, tanto io arrivo un attimo in gioielleria qui di fronte e torno A proposito, lei come si chiama? Valerio Ottimo Grazie Una collana d'oro pieno, 18 carati E quanto mi verrebbe a costare? Soltanto 650 euro Va bene, la prendo Che fa, paga in contanti o con la carta? Paga Valerio Chi? Ha presente Valerio, quello che ha la pescheria proprio di fronte a lei E chi non lo conosce? Siccome deve darmi 700 euro E allora ce li facciamo portare direttamente da lui E chi mi garantisce che lui verrà qui a portarmi 650 euro? Venga con me Valerio Eccomi Di quei 700 che devi darmi, ti dispiace portarmi 650 a lui? Come no, al signor Marco ci mancherebbe Tempo di contargli e gli porto Grazie Valerio, ti aspetto Beh, allora a posto Va bene, ecco lei, prego Grazie 465, 166 E... Grazie 465, 166 156 1511 1519